Ciao, con Facile Restrutturare mi sono trovato molto bene, mi sono sentito un po' come dei programmi televisivi americani, solo per fortuna senza intoppi e senza problemi. Hanno ridato vita a casa, ora sono felice di viverci dentro ed è esattamente proprio come la volevo io, sono contento e soddisfatto. Grazie a tutti!